Bella a tutti ragazzi, Quorgasmic sono qui con un nuovo episodio di FIFA 15 Potential Transfers Siamo in un nuovo episodio importante perché anche questa volta tratteremo tre carte secondo me abbastanza importanti per quanto riguarda il mercato e comunque sia sono tre giocatori molto molto buoni Partiamo subito con il primo giocatore, si tratta di Di Maria se vi ricordate bene avevamo già trattato Di Maria, non mi ricordo se nel primo o nel secondo episodio perché era in procinto di trasferirsi al Paris Saint Germain invece stando dalle ultime novità sembra che Di Maria dopo aver ricevuto offerte anche dal Principato di Monaco quindi dal Monaco, rifiutate però da lui potrebbe trasferirsi al Manchester United sono moltissime le squadre ovviamente sull'argentino pochi possono permetterselo perché è una valutazione decisamente alta ma comunque che vale assolutamente perché è un giocatore fantastico questa sarebbe la sua carta nel caso si trasferisse al Manchester United avevamo già discusso un po' di questa carta nell'altro episodio infatti le stats sono comunque le stesse se il Manchester United riuscisse a piazzare questo colpo sarebbe veramente un colpo importantissimo perché si tratta di uno dei giocatori più forti del mondo e quindi farebbe comodo a qualsiasi squadra la sua valutazione è molto alta io penso che, non è che io penso stando a varie fonti sembra che meno di 50 milioni non costa comunque andiamo con il secondo giocatore si tratta di Kostas Manolas o Manolas greco dell'Olympiakos che viene da una stagione veramente molto esaltante dopo anche aver fatto un ottimo mondiale a mio avviso per quelle poche partite che ha giocato la Grecia comunque Manolas si è distinto tra i suoi compagni sono molte le squadre in realtà su Manolas in Italia c'è la Roma, c'è il Napoli in Inghilterra per esempio c'è anche l'Arsenal ma stavolta discutiamo di Manolas per quanto riguarda la Juventus questa sarebbe la sua carta nel caso si trasferisse alla Juventus la Juventus come sappiamo sta cercando in questi giorni un difensore centrale comunque dall'inizio del mercato si sta parlando anche di Luisao per la precisione però Manolas potrebbe essere un rinforzo importante anzi molto importante per la Juventus anche se comunque ci sono molte molte pretendenti Manolas io lo considero un ottimissimo giocatore anzi un grande terzino un grande difensore centrale un ottimo talento sicuramente come vedete da questa carta c'è molto molto upgrade per quanto riguarda la carta di Manolas non so se sarà oro rara comunque sia sicuramente sarà molto buona con sicuramente un aumento a difesa e colpo di testa perché credo sia meritato questo giocatore ha dimostrato di essere molto molto veloce molto solido molto forte difensivamente quindi il prezzo è abbastanza alto per quanto riguarda un difensore si pensa che con meno di 10 milioni sia impossibile prendere questo giocatore anzi addirittura si è parlato di una cifra intorno ai 20 milioni che chiedeva l'Olympiakos forse una cifra un po' troppo alta però comunque sia il giocatore è veramente molto buono andiamo con l'ultima delle tre carte parliamo di Shakiri del Bayern Monaco ovviamente giocatore che quest'anno ha giocato poco non tantissimo anzi però quando ha giocato si è fatto vedere si è fatto riconoscere ha disputato anche un ottimo mondiale segnando qualche gol facendo comunque ottime prestazioni ricordiamo per esempio quella contro l'Argentina rischiava la Svizzera di riuscire addirittura a battere l'Argentina o comunque sia andare ai calci di rigore Shakiri è sulla bocca di molte squadre perché nel Bayern Monaco non trova molto spazio visto che ha dei nomi decisamente importanti davanti nulla togliendo questo giocatore potrebbe trasferirsi alla Roma di fatti questa è la sua carta che potrebbe uscire in FIFA 15 nel caso si trasferisse alla Roma Roma che è molto interessata al giocatore come da parecchio tempo che lo è comunque altre squadre italiane e estere sono interessate a Shakiri quindi è molto difficile la sua trattativa perché ha una valutazione intorno ai 20 milioni la sua carta si presenta come più o meno la carta di FIFA 14 se non il fatto che secondo me potrebbe uscire non rara perché secondo me potrebbe uscire non so boh istinto e sensazioni comunque sia come potete vedere le stats sono più o meno le stesse tranne ho aumentato di uno al passaggio e il colpo di testa è un po' random giusto per farla sembrare un po' più figa quindi sarà difficile strapparlo alle concorrenti o comunque sia anzi si pensa che possa restare al Bayern Monaco visto che anche ieri è stato schierato titolare in Supercoppa contro il Borussia Dortmund quindi difficile anche che venga ceduto comunque sia sarebbe un colpo importantissimo per la Roma che avrebbe un attacco davvero stellare comunque raga l'episodio finisce qui io come al solito vi invito a lasciare un bel mi piace 400 mi piace uscirà il nuovo video come potete vedere da questa immagine come dico sempre scrivetemi nei commenti qualche giocatore qualche rumor di mercato che avete sentito da magari aggiungere al prossimo episodio e ovviamente come vedete da questa immagine sempre iscrivetevi al mio canale alla pagina Facebook Twitter, Instagram tutti i link li trovate oltre che qui in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video bella raga